Questa mattina nel contesto del nostro programma quotidiano Just Today vogliamo parlare di sport e lo vogliamo fare anche nel segno dell'integrazione. Siamo davvero contenti di ospitare nei nostri studi tre rappresentanti della SD Oronero Black & Gold, due atleti e il mister della squadra che ci parleranno dello sport nel segno dell'integrazione. Buongiorno, bentrovati, grazie per essere con noi. Grazie, grazie a voi. Allora, io partirei dal mister Francesco Padula e partirei dall'inizio mister, dal nome proprio dell'associazione Oronero Black & Gold, un nome, un programma potremmo dire. Sì, il nome è stato diciamo pensato ad hoc, era un nome che mi balenava nella mente già da parecchio tempo e Oronero Black & Gold sarebbe appunto Oronero e poi Black & Gold in inglese al contrario. sta a indicare proprio la valorizzazione della diversità, quindi diciamo l'oro che ci può essere, l'opportunità che ci può essere nella valorizzazione della diversità. Nella valorizzazione dell'integrazione, quindi nella valorizzazione dell'accoglienza, dello stare insieme, dell'integrazione, dell'accettare diciamo persone, atleti, a prescindere dalla loro provenienza, ma guardando unicamente al merito sportivo. Allora mister, la SD nasce nell'agosto del 2023, è regolarmente iscritta e partecipa al campionato di seconda categoria, organizzato appunto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Lega Nazionale di Lettanti, e disputa le proprie gare casalinghe presso il campo sportivo comunale Ralf De Palma di Biccari. Stiamo vedendo anche alcune immagini che ritraggono gli atleti percorrere i campi di provincia, come si suol dire, come si diceva anche una volta, dove nasce e si tempra anche il carattere di uno sportivo. Assolutamente, noi giriamo tantissimo perché comunque ci fa piacere incontrare altre squadre in partite amichevoli durante la settimana, facciamo anche a volte rifinitura con altre squadre, ci alleniamo a Biccari e poi giriamo diciamo parecchio per quanto riguarda le partite di campionato. Appunto, disputiamo il campionato di seconda categoria molisana, Girone C, e quindi ci muoviamo in tutti i paesi che si trovano fra Foggia e Campobasso, per intenderci, però andiamo anche oltre, andiamo anche a Campobasso, siamo stati a Petrella, a Baranello, quindi ci muoviamo tanto. E' chiaro che sì, tutte queste situazioni fanno gruppo, fanno integrazione e forgiano anche il carattere perché devi anche adattarti a situazioni climatiche che non sono eccellenti e poi ti devi adattare ovviamente a tutte le situazioni che una partita comporta. E anche a tutti i campi da gioco, stiamo vedendo ovviamente. E anche a tutti i campi da gioco, a tutti gli spogliatoi, a tutte le situazioni, però diciamo la passione alla fine ci fa buttare il cuore oltre all'ostacolo. A proposito di passione, vogliamo conoscere i due giocatori che sono con lei in studio, mister, e sono Prince, attaccante, e Chemo, difensore. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Allora, da qui cominciamo, facciamo rompere il ghiaccio a Prince. Raccontaci la tua esperienza. Salve, buongiorno, sono Prince, sono in Italia da quando avevo 14 anni. Ho studiato grafico, attraverso un amico ho conosciuto questa squadra che mi sta piacendo perché è un misto di diversi etni italiani, marocchini, le squadre sudafricane, cioè le persone sudafricane, quindi mi sto trovando benissimo. E ti piace giocare a calcio immagino? Mi piace perché gioco anche da quando ero abbastanza piccolo, quindi è una passione, sì. Posso chiederti se hai un idolo, un giocatore del cuore? Sì, ho un idolo, un idolo ha un nome come me, si chiama Nani, quindi io mi chiamo Prince Nani, quindi abbiamo lo stesso nome. È un giocatore di quale squadra? È portoghese. Ah, beh, io sono a digiuno, quindi sentivo l'ho che annuiva, quindi ecco. E invece poi abbiamo Chemo che è un difensore, ne arriva dal Gambia. Sì. Raccontaci anche tu che significa giocare a calcio, far parte di questa squadra, fare gruppo. Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, sono a Chemo, vengo dal Gambia. Prima vengo a Foggia, qua stavo in Sardegna, una città che si chiama Nuoro. E poi sono attraverso da Foggia a trovare un mio zio. Viviamo insieme, prima trovavo un lavoro, poi sto lavorando, ho trovato un lavoro da un'azienda che si chiama La Princese, non lo so se conoscete, che si fanno pomodori. E stavo lavorando là. Poi, ora vivo da solo, poi mi sono incontrato con un mio amico che mi ha fatto conoscere, con il mister, che si gioca a calcio. Perché quando mi ha visto ha detto che è bravo, ma tu giochi a calcio o no? Sì, mi piace giocare a calcio molto, perché a volte si organizziamo tra amici, sia per giocare a tutte queste. E ho detto che va bene, io ti faccio conoscere con il mister, così organizziamo, va bene. Così l'abbiamo conosciuto con il mister, poi sono partecipato anche in questa bella squadra. Mi ha fatto molto piacere, perché per essere giocatore è una cosa, il mio sogno, capito, per essere un giocatore. Quindi mi ha fatto molto, molto piacere per partecipare. A chi ti ispiri come difensore? Sinestro. Sì, qual è il tuo giocatore di riferimento? Il tuo idolo? Ah, ok, ok, Raffaele Aho. Ah, Leao, che non è un difensore. Diciamo un giocatore, un esterno, un esterno di fascia. Quindi, diciamo, alla bisogna può giocare sia dietro che avanti, ma comunque un esterno di fascia, diciamo così. Sudore e polmoni, quindi? Sì, 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 molta corsa, molto fisico. La squadra è che mi preferisco per giocarmi difensore, però anche terzino, altri posti posso giocarsi anche. Però questo è il mio posto fisso nella squadra. Senti, mister, le finalità allora dunque, diciamo, oltre ovviamente al calcio ci sono anche evidenti finalità sociali da questo punto di vista. Voi in qualche maniera siete un po' un contenitore, potremmo dire così. Certo, noi la finalità principale è quella appunto della integrazione e dell'aiuto rivolto a questi ragazzi. Poi la squadra di calcio è, diciamo, la nostra casa. Ovviamente si unisce l'utile al dilettevole, nel senso che per portare alcuni di questi ragazzi a giocare in una squadra regolarmente iscritta a un torneo della Lega Nazionale Dilettanti, FIGC, occorre avere tutta la documentazione in ordine, occorre avere un permesso di soggiorno in corso di validità, occorre quindi essere integrati sul territorio, occorre avere una residenza sul territorio, quindi avere una casa e un lavoro ovviamente per avere il permesso di soggiorno in corso di validità. Quindi alcuni di loro sono già assolutamente integrati e da questo punto di vista non hanno nessun problema, però si affacciano alla nostra associazione anche dei ragazzi che non sono ancora integrati da questo punto di vista. Quindi la nostra finalità è quella di aiutarli in questo ITER, in questo processo, per farli ottenere tutta la documentazione che poi gli serve anche nella loro vita quotidiana, nella loro vita lavorativa, per fargli avere un contratto di lavoro, una casa, una residenza. Quindi la nostra finalità è veramente volta a integrare sul territorio questi ragazzi. A 360 gradi. A 360 gradi, ma a integrarli veramente, cioè nel senso dargli una stabilità per la quale possano lavorare, perché il lavoro viene sempre prima di tutto, e poi nel tempo libero svagarsi, divertirsi e giocare con noi. Anche una lezione, quella che voi date, di ripudiare ogni forma di razzismo e xenofobia, perché purtroppo, mister, non ci giro intorno, anche le ultime notizie di cronaca non ci fanno fare una bella figura a livello calcistico. Quindi lei crede che potrà arrivare un momento in cui non ci sarà alcuna forma di razzismo? Io, guardi, le dico la verità, io ho seguito in prima persona la questione di Megnan, è stata una cosa vergognosa. Fra l'altro ieri ho sentito l'audio che è stato mandato in onda poi dei tifosi dell'Udinese, ed è stato un audio che mi ha imbarazzato, ha imbarazzato me che non c'entrava niente, cioè nel senso è un audio imbarazzante, cioè nel senso una violenza a ripetere otto, nove volte delle improperie gratuite, quando poi, fra l'altro, l'Udinese è una di quelle squadre che ha nel suo palmarès e nel suo storico forse più giocatori extracomunitari di tutte le altre. Quindi è una questione di ignoranza e sono dei cretini che vanno a sfogare le loro frustrazioni la domenica, ma potrebbero colpire chiunque. E purtroppo poi ci sono le società anche che tante volte, più delle volte, sono inconsapevoli ovviamente di questo, diciamo, di chi magari li segue e sono costretti a pagare anche i danni rispetto a chi ovviamente. Esattamente, ma poi, fra l'altro, uno sportivo vero, le assicuro che all'interno di uno spogliatoio sono tutt'altre le cose che guarda. Guarda il merito sportivo, guarda la concentrazione, guarda il fatto di giocare leale, di giocare corretto, la posizione in campo, la tattica, non esiste una questione di... Cioè, almeno io parlo per me, ma io credo che uno sportivo debba vedere il merito sportivo. Non posso immaginare che uno sportivo guardi ad altro. Però diciamo che ovviamente tutte le squadre hanno le loro priorità, nel senso chi vuole far giocare i giocatori locali, chi vuole far giocare i giocatori del posto, piuttosto... Ogni squadra ha le sue priorità. Ecco perché noi abbiamo deciso di fondare questa associazione e questa squadra proprio per poter avere la libertà di tesserare e svolgere questo lavoro di integrazione a 360 gradi, senza alcuna limitazione. Siamo davvero contenti di aver conosciuto questa realtà. Diciamo che la parola d'ordine, mister, deve essere fair play, rispetto e lealtà in campo e fuori campo. Quindi le parole chiave devono essere proprio queste. Assolutamente. Noi siamo in conclusione, Leo, pochi secondi per salutarvi, ringraziarvi, augurarvi in bocca al lupo. Come si dice in termini... Crepi il lupo. Per il calcio come quando bisogna dare in bocca al lupo. In bocca al lupo va bene. In bocca al lupo, sì, sì, sì. Quando scenderete in campo prossimamente abbiamo visto anche delle belle immagini che davvero riassumono quello che fate e la vostra ispirazione. Grazie al mister del Foggia Francesco Padula, a Prince e a Chemo per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Andiamo in pubblicità e restituiamo la linea alla regia.